Roberto Fico, ex presidente della Camera a Campobasso per sostenere il candidato presidente del centro-sinistra, Roberto Gravina. Piazzetta Palombola, cornice in cui si è svolto l'avvenimento. Nella regione Molise, Movimento 5 Stelle e PD insieme per un test importante e di valenza nazionale. Per noi la regione Molise è molto importante perché abbiamo un'alleanza progressista con un candidato sindaco del Movimento 5 Stelle, Roberto Gravina, sindaco di Campobasso che ha lavorato molto bene. Quindi una sfida entusiasmante, pensiamo che questa regione, la sanità non solo debba essere fino in fondo pubblica ma deve uscire da un bilancio che assolutamente disse Stato e dare un vero servizio ai molisani. E' quello che vogliamo fare, continuiamo a farlo e quindi lotteremo fino all'ultimo giorno per far sì che Roberto Gravina sia il presidente della regione Molise. Poi i temi principali di intervento. Le infrastrutture sono fondamentali per il Molise, si è fatto troppo poco, bisogna fare di più e bisogna fare meglio. L'autonomia differenziata indebolirebbe una regione come il Molise di gran lunga e indebolirebbe tutto lo Stato. Quindi noi il progetto di Calderoli, ricordiamo di Calderoli, lo rispediamo al mittente. Non ultimo, un pensiero nostalgico per il reddito di cittadinanza. E' stata una grande cattiveria da parte del Governo centrale tagliare i fondi per il reddito di cittadinanza e modificare il reddito. Noi dobbiamo lottare affinché il reddito venga ripristinato perché è una misura di dignità che aiuta le persone che sono in difficoltà. A tirare la volata al candidato Gravina anche Europa Verde con l'onorevole Filiberto Zaratti. Il suo pensiero critico nei confronti della destra che propone l'autonomia differenziata un danno per le regioni. Intanto io rappresento i Verdi Sinistra, sono deputato dei Verdi Sinistra e diamo un sostegno comunque a questo candidato perché è un candidato che può segnare una svolta non soltanto per questa regione ma dare un segnale importante al fronte progressista, al campo progressista in tutta Italia. Quindi noi ci aspettiamo dal Molise un risultato significativo che possa lanciare un'inversione di tendenza a livello nazionale.